Ha messo a segno un furto, l'ennesimo, durante il mercato dell'antiquariato di Anghiari. Qui con destrezza, infatti, è riuscito a portare via ad un ignaro venditore la parte di un'antica chiusura di un portone. Ma i carabinieri della stazione di Anghiari, durante un servizio perlustrativo, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, lo hanno notato e fermato per un controllo. L'uomo alle spalle aveva numerosi precedenti, era stato infatti arrestato per furti con destrezza e solamente un mese fa era stato denunciato, sempre dai carabinieri, per una serie di colpi in provincia, durante i quali aveva asportato 20 serrature antiche, alcune anche risalenti al periodo medievale, da chiese e palazzi storici. Questa volta, così, i militari, notato un comportamento sospetto, hanno deciso di seguirlo ed osservarlo. L'uomo, in effetti, uscito dalla piazza dopo essersi guardato attorno, ha occultato sotto una macchina un pesante oggetto, credendo di non essere notato. A quel punto i carabinieri lo hanno fermato. Le indagini hanno portato così a scoprire che l'oggetto in questione, un battente di un portone in ghisa, era stato rubato ad un commerciante di antiquariato che ancora non si era accorto del furto. L'area furtiva è stata recuperata e per l'uomo è scattata la denuncia per furto aggravato.